Siamo tornati sulle spiagge di Ostia ad allontanare i venditori abusivi. Dall'azione di Casa Pound dell'anno scorso non è cambiato assolutamente nulla, nonostante i programmi del governo, nonostante i programmi della Raggi. Noi oggi siamo qui per contrastare il commercio abusivo, qui vengono vendute merci contraffatte, vengono vendute cibi avariati o con insetti, come è stato dimostrato dai blitz delle forze dell'ordine dell'anno scorso. Noi siamo qui oggi per riaffermare un principio di legalità, siamo qui oggi per allontanare questi venditori abusivi e chi difenderà l'illegalità, le polemiche che nasceranno da questa nostra azione, lasciano il tempo che trovano. I buonisti che difenderanno oggi l'illegalità, i radical chic, la sinistra che ci accuserà, poco ci importa. Noi siamo dalla parte degli italiani, da quei commercianti italiani che tutti i giorni tattassati da tasse e multe, siamo dalla parte del nostro popolo e continueremo con le nostre azioni anche forti quando necessarie, come in questo caso.